La categoria società di acquisto crediti Nel 2018 ha determinato con la propria presenza l'andamento dei trend del compatto. L'eccedenza emerge oltre che nei risultati anche nell'aver saputo interpretare al meglio i cambiamenti del mercato. L'incitore è Banca Iris. L'aiuto le tengo questo. Ringrazio tutti per l'ultima categoria. La penultima. No, ce ne sono altre due. Altri due, ok. Ringrazio tutti. Sicuramente siamo per noi in un mercato importante, per la banca in sé per sé. E siamo contenti di poter dire che nel mondo del credo e del consumo ci siamo spostati anche al mondo bancario. Oggi rappresenta circa il 55% dei nostri volumi. E questo è assolutamente una squadra fatta di persone che hanno una capacità di internazione e un sacco di persone. Grazie a tutti.